Allora signor Cullotta, oggi lei finirà le date messinesi di Pensaci Giacomino, capoloro di Luigi Bigrandello e testo di grande attualità. Comincio questa intervista partendo dal fatto che il pubblico messinese ha accolto veramente in maniera molto calorosa questo testo. Sì, infatti ci troviamo alla sala Vittorio Emanuele di Messina, veniamo da altre città, Catania, il Nord, poi siamo scesi qua, poi ritorneremo ovviamente al Nord, Bologna e quant'altro, uno spettacolo ormai che è in tournée da parecchi mesi, chiuderemo quest'anno questa stagione teatrale a febbraio e poi la riprenderemo la prossima stagione teatrale sempre in giro per l'Italia. Sì, è uno spettacolo che ha molto molto successo, pensate prima una novella, poi una drammaturgia scritta cento anni fa e questo signore, non a caso premio Nobel, Luigi Bigrandello, aveva odorato il disfacimento totale di questa nostra società e dentro, pensaci Giacomino, ci sono tutti i temi che abbiamo attorno, oggi, quindi cento anni dopo, non è cambiato praticamente nulla, il disagio femminile, la scuola, gli insegnanti, l'ignoranza che genera violenza, gli anziani, oggi noi viviamo, oggi noi cittadini, viviamo con le pensioni, grazie agli anziani, gli anziani li abbiamo sempre attorno, pronti ad aiutare i giovani, la solitudine, oggi siamo in piena solitudine come cittadini, come persone, come uomini, ci hanno spaventato, ci spaventano, quindi dovete pensare, fare attenzione a questo, cercare però di uscire da casa, stare insieme agli altri, il tema poi degli altri che ci guardano, che devono dire sempre cose su di noi, anche se non ci conoscono, ne conosciamo e oggi non siamo attorniati da internet e quant'altro che anonimamente vi giudicano secondo una frase che secondo loro devono comunque insultare l'ignoranza, l'ignoranza, quindi come vedete i temi di Pensaci Giacomino sono tutti che abbiamo attorno a loro e probabilmente è per questo che dovunque andiamo il pubblico viene emozionato, segue con un grande pato su tutta l'opera, partecipa, evidentemente sono temi che gli appartengono, poi ognuno sceglie i propri personaggi dell'opera, del racconto, quindi scelgono i propri fantasmini, tant'è vero che si chiude il sipario alla fine di un'ora e venti di spettacolo, non è stato tolto nulla dal testo, rimane seduto in platea, questo dovunque, come ragionare su un'emozione che hanno avuto, felici, il pubblico insomma dietro a tutto questo ci chiede attraverso il teatro, attraverso lo spettacolo, il libro, il cinema, ci chiede fate di tutto per farci riprendere la vita, vogliono ragionare, vogliono emozionarsi o ridendo e che comunque si pensa, il pubblico ha bisogno di questo. Certamente il teatro italiano in questo momento non vive proprio vita buona, questo grazie ad un percorso di oltre 30 anni di mala politica. Il nostro Paese è stato con, come sapete benissimo, con la crisi economica, ma anche l'Europa l'ha avuta questa crisi economica, eppure nelle altre nazioni europee in così tanti anni non hanno mai tolto un euro né alla scuola né all'università, luoghi dove si formano gli uomini di domani, né tantomeno alla cultura in generale. Qua in 30 anni la politica puntualmente non ha fatto altro che togliere, ha schiaffeggiato i ragazzi, gli studenti, togliendo, togliendo denaro, non avendo programmi culturali di nessun tipo nelle città, verso i giovani, mancando tanti temi sociali. Detto questo, comunque, non so chi vedrà questa chiacchierata, chi ascolterà. Quando c'è un teatro nella vostra città, perché il teatro dovrebbe essere in ogni città, riunisce, si sta insieme, si capisce la realtà di dove abitate. Il teatro aiuta, il teatro è medicina per la mente, come lo è il cinema, come lo è il libro. Pensate che noi in Italia, il 67% degli italiani non leggono libri, non è una cosa buona. Assolutamente, perché l'arte, ovviamente, arricchisce l'uomo, nobilita lo spirito. L'arte, non so se... L'arte, sì, certo, in genere, noi siamo il Paese che nel Rinascimento ha inventato tutto, pittura, scultura, architettura, meraviglia, bellezza nel Rinascimento. Si sono dimenticati tutto di questo passaggio, come se non fosse mai accaduto nel nostro Paese. Pirandello, potremmo dire, veramente, come tutti i grandi autori, parla oltre il suo tempo e, infatti, nel testo c'è proprio la paura anche del diverso. Il diverso è inteso come colui che non sottostà alle regole imposte dalla società. La malattia, come posso dire, malattia che appartiene al nostro Paese, è antica, è storica, il diverso, anche oggi sul diverso ci marciano politicamente, perché poi di fatto in questo momento non esiste tema, ma loro ci marciano. Quindi quando voi ascoltate determinate cose cercate di ragionare, cercate di curiosare nella vita, lo dico anche per i giovani, di sapere, di tirar fuori le cose, non fermatevi al superficiale, non fermatevi soltanto e semplicemente alla vostra pancia, come fanno i politici con voi. Esatto, perché poi se pensiamo, per esempio, ai migranti, per esempio oggi il diverso può essere considerato immigrante. Ma ci siamo dimenticati che noi abbiamo una storia come migranti, anche questo si sono dimenticati. Ognuno di noi c'è un nonno, un vicino di casa, un amico antico, il parente di qualcuno vicino a casa nostra che è stato immigrante, con annessi e connessi, quindi con note di vario genere. Su Scordano! È vero, questa metto che è una cosa che penso sempre anch'io, che ci siamo dimenticati che siamo stati migranti anche noi, più di cento anni fa. E poi a proposito delle maldicenze appunto da gli altri che ci giudicano, oggi come dicevamo prima, con i social è come se si fosse amplificato questa malabitudine. Guardi, è come il gattopardo, per quello che giustamente ha odorato, ha sentito cento anni prima, Luigi Pirandello, Tomasi di Lampedusa, non il gattopardo. Cambiare tutto per non cambiare niente. Quindi sicuramente oggi, certo, una volta la maldicenza come ai tempi di Pirandello c'era con le chiacchiere della gente. Non ai tempi di Pirandello, perché dice ai tempi di Pirandello? Perché la maldicenza oggi non c'è. No, c'è ma si esprime in un altro modo appunto. E' sempre maldicenza è, si può esprimere vestuta bene, vestuta male, sempre maldicenza è. Parlare degli altri per non parlare di se stessi, essere protagonisti a tutti i costi senza sapere chi è, dove è, qual è l'argomento. Hanno necessità di… i selfie sono poi la chiave di tutto, no? Io sono protagonista, ecco qua, guardami, vedimi. Esatto. Pirandello è proprio in questo suo, aver parlato di queste tematiche, sta qui secondo lei la cifra, la modernità di questo grande autore? Assolutamente sì. Questo non vuol dire, perché poi lui nella vita sua privata, quindi la grandezza dello scrittore, del drammaturgo, lui nella sua vita privata aveva parecchi fantasmini, la moglie pazza, aveva un cattivissimo rapporto con i figli, un uomo egoista, un uomo che comunque fu chiamato persino a Hollywood per girare dei film, insomma non era uno qualunque, non a caso, come dicevo prima, premio Nobel. Esatto. E poi importante è anche questa scenografia che vediamo qua. Ma questa scenografia? Per sottolineare le tematiche di… Qua vede soltanto emblematicamente che si muoveranno per tutto lo spettacolo come dei giganti, quindi gli occhi degli altri, gli sguardi degli altri. Ecco, il regista Fabio Grossi di quest'opera, realizzati da Angela Gallaro, la scenografa, il regista si è ispirato in questa espressività della messa in scena di Penze e Giacomino, a quel periodo storico che Pirandello visse in Germania, perché insegnò in Germania per parecchi anni e in quel periodo, insomma, spuntò fuori quell'espressionismo, si chiama così, il genere, e queste facce, questi sguardi sono ispirati appunto al periodo espressionista, uno per tutti, Kokoschka, tutto qua. Per tutto lo spettacolo scorreranno questi, chiamiamoli, giganti che stanno attorno a noi, stanno attorno all'opera, gli altri continuano a guardarci, lo spettacolo si apre con un sipario enorme, incredibile, con dipinti questi sguardi, come dire, gli altri stanno sempre attorno a noi, ma non si fanno mai fatticelle, so. Sì, infatti, è una frase dialettale perfetta per sottolineare questo concetto. Parlavamo prima... Non credo che lo vedranno a Bolzano, questo servizio, però. No, no, lo vedranno, c'è un'altra su YouTube, quindi lo vedranno, sicuramente. Ok, ok, molto bene, molto bene. Parlavamo prima della situazione dello spettacolo, lei cosa consiglierebbe ai giorni, visto la situazione non proprio di mia? Studiare, 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 qualsiasi professione vogliate prendere, lo studio arricchisce. Certo, ci sono mille problemi, capisco perfettamente, ma studiare vi fa avere nella vostra faretra le frecce giuste, perché studiate, ragionate, capite e quindi di conseguenza laddove ci sarà magari, vi auguro di no, ma un periodo problematico, avendo la capacità di far agire il cervello con quello che avete studiato, con quello che avete letto, sicuramente supererete quel momento pesante, proprio perché siete più ricchi mentalmente. Lei ha fatto tanto varietà negli anni. Io ho fatto di tutto, non soltanto tanto varietà, fa parte del linguaggio dell'attore, chi fa il mio mestiere, cioè l'interprete, interpretare personaggi lontani da sé, ci sono i linguaggi che un attore dovrebbe sapere, che la maggior parte sa, poi ognuno può scegliere il proprio settore di lavoro, ma un attore appunto deve conoscere i linguaggi, voi conoscete per caso medici che operano soltanto appendiciti? No, deve conoscere il corpo umano e quindi sa operare in generale, così l'attore deve conoscere il linguaggio del palcoscenico sotto qualsiasi formula, compresa anche l'uso della voce per arrivare all'ultima fila, il linguaggio con la cinepresa che è completamente differente da quella del palcoscenico, è più interiorizzata perché poi sullo schermo apparirà la vostra faccia a otto metri per quattro e quindi è tutto dentro, così come il linguaggio di uno studio televisivo, il linguaggio davanti ad un microfono e questo è il bagaglio di un attore esattamente come il bagaglio di un medico che se non ha studiato certamente non sa adoperare il bisturi. Certo, lei si è cimentato anche proprio nel linguaggio infatti del varietà, secondo lui come mai è caduto un po' in disuso? No, non è caduto in disuso, è soltanto la preparazione, oggi c'è molto dilettantismo, una volta, quindi compresi i grandi, sapevano la loro professione, erano meravigliosi professionisti, oggi tutto è degradato, oggi tutto è in giù, questo anche e non solo per la pochezza politica che questo paese ha attraversato, ad esempio negli ultimi trent'anni. Infine, lei chiede invece una sua opinione riguardo a un altro linguaggio dell'attore che invece è quello del film che opera la TV, la cosiddetta fiction, che è un bel così anche da alcuni addetti ai lavori. Sì, oggi la fiction italiana è di una qualità molto alta rispetto a qualche anno fa, è molto vicina a parecchi fiction americani, inglesi, c'è stato un passo in avanti, compreso l'ultimo, l'amica geniale di Saverio Costanzo, un bellissimo prodotto per la televisione. E' nel varietà che tutto si è abbassato, manca la conoscenza, manca il sapere, è tutto così, l'Italia è il paese dove c'è l'arte da arrangiarsi, non bisogna mai dimenticarlo, quindi tutto è ma sì, ma dai, facciamo, tant'è vero che scopriamo un giorno sì, un giorno no, medici che non sono medici e che per fortuna li acchiappano, dentisti che non sono dentisti e cose via. E quindi anche il cosiddetto spettacolo, ma lo spettacolo ha una sua aurea di storia, di grandissimi interpreti sotto tutti i punti di vista. bisogna, bisogna saper guardare, se poi ci accontentiamo della sua popera, questo è un altro paio di mani. credo, grazie.